Ciao a tutti, sono le 14, ora italiana e ci ritroviamo qui nella nostra web tv che collega oltre 200 città nelle quali si sta svolgendo Run4Unity. E in miliardi di adolescenti per centenze di città, stiamo correndo per dire al mondo, di un fosore a un altro, che il mondo unito non è impossibile. Quindi, cominciamo con il secondo secondo, stiamo qui nel studio e stiamo ricevendo un tono di notizia da tutta del mondo. A le 9.00 in Bangkok, in Bangkok, una piccola città, sulle le colline di Petabon, i città cristiani di diverse iglesi, junto a i città di altre religioni, iranno al bosco a buscare bambù e poi iranno a un rio cercano, buscando arena e piedra per riparare le casse delle persone più povere. Mentre a New Delhi hanno già fatto una staffetta interreligiosa, toccando i luoghi di culto di addirittura quattro religioni diverse. Un tempio Sikh, un tempio Hindu, una moschea e una chiesa cattolica. Anche se siamo di diverse religioni, viviamo insieme la regola d'oro. Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Hacerlo di más lo que quieres que se te haga a ti. Fa a os otros aquello que gostarias que fosse feito a ti. Treat others as you want to be treated. Cosa interessante è che è proprio d'oro perché si trova nel Vangelo, ma è presente in tutte le religioni ed è iscritta nel cuore di ogni uomo. In pratica ci chiede di far contenta a ogni persona facendo per lei ciò che vorremmo fosse fatto a noi se fossimo al suo posto. Ness'è un tempo, i paesi dell'Europa Ocidental e dell'Europa Central, juntamente con alcuni paesi dell'Africa, già ciò che vorrei una corrida. N'Africa del Sud, i percorrere in Soto, che è un bairro che è un bairro che è un bairro di cultura di quel po' e dove i adolescenti, qui, hanno fatto una colligazione con noi per poter dare un ciao. Ciao! We are the Gen 3 from South Africa and we're passing our greetings in different languages. We are having our run for unity and we're focusing on the mathematical signs. There's what we call the Golden Rule, which says, do to the others what you would like them to do to you. We emphasize and put this into practice. This rule is for all the people, nice or unpleasant, young or old, healthy or young. We are expecting over 100 people for our run for unity and we are going to be united as a family. Le caratteristiche di queste staffette sono l'ecumenismo e la ricca partecipazione di vari movimenti, associazioni, scuole e gruppi parrocchiali. Hanno i nomi più originali che esprimono gli impegni più diversi, dall'ambito sociale a quello religioso, culturale e sportivo. And not to mention all the nationalities that the event will touch today. For example, in Azo, Norway, we will run together in Stovner, an area where there are 133 different nationalities. Visto che siamo in vena di dare i numeri, io ho qui un elenco. Ci sono 11 staffette in Spagna, anche in grandi città come Madrid, Barcellona, Siviglia e Valencia. 5 in Germania e Portogallo, una alle isole Azzorre. 4 in Romania, Croazia e Francia. Tra il Medio Oriente, l'Europa Orientale e le Azzorre ci sono oltre le 80 staffette. Tornando qui in Italia, invece, le staffette sono ben 35, da nord a sud comprese le isole. Ad Ischia, il Run for Unity, abbraccia l'isola con una catena umana, segno del nostro sì all'ambiente. E tra i confini dei comuni dell'isola, i sindaci si scambieranno il testimone. Il Run for Unity, Massa e il Nord, Henry Diavik e l'Islanda. I Run for Unity più originali sono la staffetta culinaria a Somma Campagna, a Verona, la corsa tra le catacombe di San Gennaro, a Napoli, e infine la caccia a tesoro tra le rovine di un castello in Slovacchia. E quelle più coraggiose sono state a Okuku, in Nigeria, a Roseto degli Abruzzi dopo il terremoto del 2009, e a Sestri Levante dopo le inondazioni che hanno colpito la Liguria nel 2011. Durante Run for Unity abbiamo portato avanti Coloriamo la città, un progetto portato avanti dai ragazzi per l'unità che mira a colorare le zone più grigie delle nostre città. Per esempio, a Casteldaro sono stati raccolti dei prodotti alimentari per la Caritas. E poi a Stacom, dove ci saranno i materiali di scuola ai quali in necessità. E in Trieste, li cerraranno la giornata con un bifè multietnico. E poi poi a Repubblica Czeca, dove ci saranno i esperti sui obiettivi sociali, culturali e economici. E in la città di Lodi, a cada sim, sarà collegata una ação per colorare la città. E li passaranno per l'ospital, per la penitenziaria, per la beira dos rios e per la prefeitura. Questa era l'ultima notizia della nostra seconda trasmissione. In le ultime ore, tante città e paesi americani si stanno preparando per la corrida. Ma per saperne di più, ci ritroviamo qui alle ore 20, ora italiana. E vi ricordiamo anche che alle 17 ci sarà la diretta da Bruxelles con Insieme per l'Europa. Non mancate! Ciao! Ciao!